Non sono un artista, sono un artigiano della pittura. Si definiva così con l'immancabile sorriso Vittorio Martinelli, artista lecchese scomparso oggi all'età di 75 anni. Autodidatta, 30 anni, contro il parere di tutti, lasciò un posto sicuro da operaio al Caleotto e si dedicò alla pittura. Dotato di una tecnica eccezionale, ha dipinto con maestria il lago, i paesaggi e i suoi personaggi. Una sua veduta della nostra città fu regalata al Presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi, durante la sua visita ufficiale. La bellezza dei suoi paesaggi è universalmente riconosciuta, ma la sua cifra stilistica si trova forse nelle opere meno famose che rispecchiano il suo carattere solare ed estroverso. Martinelli, che ha insegnato a dipingere a decine e decine di lecchesi, rivivrà nei tanti tromploi che impreziosiscono edifici della nostra città, nei ritratti che dedicava ai tombini, ai cartoni bagnati e soprattutto agli amici, fra loro anche i senza tetto. Lascia la sua arte inimitabile, l'affetto dei suoi cari, la moglie Luigia e i tre figli e il ricordo del suo sorriso contagioso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di scambiarci. Quattro parole. I suoi funerali si terranno nella chiesa del quartiere di Germanedo sabato alle 9.45.